Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Sempre verso Firenze si sta intensificando il traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 295, sulle corsie di destra ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A11 in direzione Firenze rallentamenti tra Prato Ovest, l'allacciamento con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto a Campagnatico a causa di uno smontamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!